La voracità impulsiva e frenetica dell'evoluzione del mercato odierno fa percepire l'esigenza strategica fondamentale di costruire e sviluppare sempre più imprese capaci di diventare la causa contro le continue ciclicità del sistema socio-economico in cui sono coinvolte. Da ciò nasce il desiderio di essere ancora più vincenti come modello che a prescindere fa la differenza. Non più organizzazioni deboli, effetto del mercato che si lamentano di ciò che non è e di ciò che non va, ma strutture e sistemi di persone intraprendenti capaci di creare le condizioni per essere, ogni volta, le più utili e le più uniche. Non essere un'impresa best people first oggi significa accontentarsi, sopravvivere sull'insicurezza dell'abbastanza bene, del non decidere per paura di farlo e di aspettare, o meglio sperare, che qualche circostanza esterna modifichi positivamente la situazione. La devoluzione economica attuale diventa una circostanza a cui ci si abitua e con la quale si motiva la ragione dei fallimenti aziendali. Diventa facile per le imprese con organizzazioni deboli usare alibi come non esistono più le condizioni per fare impresa o per evolversi in un mercato tanto schizofrenico e incerto. Ciò non è vero. Esistono organizzazioni, soprattutto di micro, piccola e media impresa, che veleggiano veloci e profittevoli in questo tanto dissacrato mercato. Cosa significa essere un'impresa best people first? È la decisione dell'organizzazione di essere la migliore, per ottenere la visione e diventare la più utile ed unica nel massimo posizionamento di mercato, in coerenza alla propria cultura aziendale e in condivisione alla produttività collettiva, al fine di rendere ecologico l'ecosistema socio-economico e far crescere le persone migliori tra persone migliori. L'impresa best people first è assolutamente human-centric ed il prodotto finale di qualità di tale organizzazione è far crescere persone migliori, decisive e determinanti ad ottenere la visione, come riconoscimento di miglioramento di vita per la collettività. Un'impresa best people first si costruisce e si posiziona sul mercato considerando i seguenti aspetti essenziali e fondamentali. Crea il massimo coinvolgimento e diffusione, anche all'esterno dell'impresa, della cultura aziendale e della bellezza unica della visione. Ha un organigramma strategico, il quale ha continuamente pensato e ripensato per migliorare il flusso, la sintesi funzionale e la crescita ed il rafforzamento dei livelli di leadership. Vive una completa coerenza alla strategia e dalla tattica aziendale per promuovere velocità, produttività e motivazione. L'execution è il valore di intelligenza collettiva e migliora maniacalmente l'efficienza e l'efficacia delle persone nei processi, nei tempi e nei metodi per l'innovazione continua di risultato. Lo stile di vita è pienamente condiviso ed è focalizzato alla massima difficoltà, scomodità ed impossibilità per generare la più forte leadership di collaboratori, i quali decidono di essere assolutamente i migliori, per e con gli altri. La leadership è diffusa e vissuta all'interno del sistema fluido impresa, che crea rapporti assoluti di partnership con i fornitori, i clienti e la collettività per avere una comune visione di massima prosperità e benessere per il pianeta. Il prodotto finale di alta qualità aziendale che produce l'impresa Best People First è il valore dell'ecologia. Essa promuove e crea un contesto abitato di mercato dove ogni attore cresce la visione e incoraggia altre imprese ad essere comunità per rendere il mercato e la società capaci di generare il massimo benessere ed evolvere il pianeta come il posto migliore per le persone. Per ultimo, ma non meno importante, creare e far crescere un'organizzazione per essere Best People First, oltre a raggiungere il massimo posizionamento nel contemporaneo mercato delle idee e generare un successo duraturo aziendale. È un viaggio bellissimo, fantastico, da condividere ed è il miglior dono che gli imprenditori possono dare alle persone per essere felici e libere di realizzarsi professionalmente e personalmente.